Uomini e donne, crisi tra Giulia Lellis e Carlo Beretta. Gli indizi. Giulia De Lellis e Carlo Beretta fanno ormai coppia fissa da un po' di tempo. I due si sono sempre molto innamorati sui social e non solo. Tant'è che Giulia qualche mese fa a Verissimo ha speso delle bellissime parole nei confronti del fidanzato. Negli ultimi giorni però alcuni fan della coppia hanno notato alcune stranezze sui social e da lì a parlare di ipotetica crisi tra i due il passo è stato breve. Ad avvalorare queste ipotesi ci ha pensato People Gossip, che ha voluto dare qualche dettaglio in più sulla questione. Non ci resta che aspettare, per capire se la De Lellis e Carlo metteranno a tacere le voci relative a una crisi tra loro, o meno. Grazie a tutti! Grazie.